cari amici del mojje un saluto da giano e franci da quel di san giorgio a venezia ciao vi vogliamo ringraziare tantissimo per il premio che ci avete consegnato noi siamo qui a venezia e non vediamo l'ora di condividere con voi tutte le nuovissime avventure che stiamo registrando grazie a tutti ciao